Allora, buongiorno a tutti, come immaginerete la decisione di fare questa conferenza stampa è semplicemente per il fatto che la squadra partirà in ritiro per Pomezia prima della partita di lunedì sera contro la Salernitana, quindi questo è un modo ovviamente per farvi ascoltare le parole del mister in vista di questo appuntamento. Possiamo cominciare. Direi mister, decisione improvvisa? Decisione presa con il mio staff, presa anche con la società, per dare in un momento del campionato delicato, siccome ci sono ragazzi nuovi che sono arrivati, qualcuno dovrebbe arrivare anche oggi e quindi abbiamo bisogno di lavorare con la massima concentrazione, ma non è che perché abbiamo delle pressioni, voi sapete benissimo che io ho sempre fatto fare allenamenti a porta aperte, non ho mai avuto problemi e non ce l'ho neanche questa volta, solamente perché proprio ho chiesto io alla società di stare un po' tutti insieme in un momento dove i risultati non vengono e dove la classifica comincia a essere preoccupante, anche se è la stessa classifica che abbiamo prima di questa giornata, perché tutte le squadre che stavano avanti a noi e dietro a noi nessuno ha raccolto il punto, tranne mi sembra Ascoli e Cesena, quindi è passata una giornata, siamo sempre in zona di retrocessione, è passata una giornata, abbiamo incontrato Lempoli, la partita è inutile che ne parliamo, l'abbiamo vista tutti quanti e rivista, la squadra è viva, la squadra non vuole mollare, l'allenatore non vuole mollare e quindi ho chiesto alla società questo sforzo, questa mia necessità di stare più a contatto con i ragazzi giorno e pomeriggio e notte anche, se c'è l'occorrenza per parlare con i giocatori, perché ripeto, ci sono 3-4 unità nuove e quindi dobbiamo un attimo fare subito gruppo. La squadra come ha preso? Beh, la squadra quando vanno in ritiro i giocatori sono tutti, a nessuno piace, perché si lascia le famiglie, si lasciano i figli, si lasciano le abitudini, quindi però per me vengono prima la ternana e quindi i sacrifici vanno fatti, per me è un dovere che io mi sento di chiedere ai miei giocatori, perché dobbiamo tutti essere responsabili, io per primo, di questa situazione che non è possibile, che la ternana ancora oggi sta in questa situazione. Una domanda stupida, mister, se avessimo pareggiato Empoli, sarebbe stato il tiro? Beh, io penso di sì, penso di sì ugualmente, ma ti ripeto, non è che noi a Empoli abbiamo perso con una squadra che era ultima in classifica, abbiamo perso con una squadra che oggi è seconda in classifica e avete visto tutti come abbiamo perso, quindi noi che stiamo riparlando sempre delle solite prestazioni, non arrivano i punti, quindi ci dobbiamo assumere delle responsabilità, io sono il primo perché sono io che li mando in campo e sono io che li alleno, quindi voglio far capire questo ai miei ragazzi che è un'altra testimonianza che poi la società ha accettato questa mia richiesta, ma non è una cosa contro nessuno, è solamente un mio volere di stare più uniti, di compattarci perché anche quando abbiamo fatto il ritiro giù al paese a Castiglione Fiorentino è stato un grande passo avanti perché ci siamo conosciuti anche con i ragazzi che erano arrivati da poco per cercare anche di capire le loro abitudini, il loro pensiero. Senti mister, prima parlava, non so capito bene, ci saranno due o tre volti nuovi, uno è Re Pozzi, gli altri? No, gli altri stiamo chiudendo con un centrocampista e poi vediamo, poi vediamo, noi siamo sempre aperti con il mercato, ma non è una bocciatura la vecchia, dice stiamo mandando via, noi abbiamo mandato via quei giocatori che hanno giocato poco e quei giocatori che pensiamo di, che da qui a fine campionato avrebbero trovato poco spazio e quindi queste mie decisioni fatte con il mio direttore sportivo e in collaborazione con la società abbiamo deciso di potenziare questa squadra in quei reparti dove abbiamo un po' di bisogno di esperienza perché io voglio tramontare quei 12 pareggi, non dico in 12 vittorie, ma la metà vorrei che tanto tornassero delle vittorie come il campo ci aveva detto e che poi risultato per tante componenti, perché il calcio poi è fatto di tanti fattori, non sono avvenuti, ecco quel pizzico di esperienza che tutti quanti abbiamo già da queste 21-22 presenze più questi 3-4 giocatori, 5 quelli che saranno, che hanno migliorato questa nostra rosa che secondo me era già valida, perché io vi ripeto, ce la siamo giocata sempre con tutti, è mancato quello che nel calcio a volte c'è anche poi bisogno di fortuna. Ministro, di Repossi parlano bene Ratti che è il giocatore con il maggior numero di presenze di sempre nella Ternana, che l'ha avuto all'Inveruno, credo fosse il programatore atletico, e Iacolino che tra l'altro è un altro ex giocatore della Ternana dei tempi riviciati, la sua primissima impressione su questo giovane esterno offensivo? Ma è un giocatore di gamba, molto veloce, rapido, è un giocatore che parte molto, ho già visto io dalla partita, gli piace partire palla al piede e quindi è un giocatore che ci c'è una mano, ma non è lui il giocatore che... questa è stata l'ennesima scommessa del nostro direttore su quegli giovani che sono emergenti in un campionato dilettante che seguiamo perché abbiamo sempre bisogno di qualche giovane promessa, però è normale che sono altri giocatori che devono dare delle risposte in campo, sono i senatori e sono i i cosiddetti rinforzi, ma tutto dipende dal nostro gruppo, che è quello storico, che è quello forte, che è quello che è partito e che purtroppo, solamente dico purtroppo per la classifica non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Ho visto molti nuovi, ma anche qualche saluto, trovi a saluto che ho visto questa mattina, molti a salutare Dicione, segno che la sua esperienza la Ternana è conclusa? Ma no, non è conclusa perché la società gli ha rinnovato il contratto, l'ha mandato in prestito, perché secondo le nostre indicazioni, con i nuovi acquisti, un giocatore così importante richiesto da molte società, siccome è un nostro capitale, è un giocatore che è cresciuto con noi, l'abbiamo preso dalla Serie D, ha debuttato in Serie B, ha fatto un discreto campionato, però io penso che fosse troppo chiuso da certe situazioni, potrei cambiare modulo di gioco, potrei avere due esterni più di difesa che di attacco, potrei giocare diversamente, quindi abbiamo deciso che un giocatore così importante deve andare a giocare per poi ritrovarcelo, magari il prossimo anno, perché non è detto che, non è che Dicione è stato ceduto, è stato solamente dato in prestito, ma la cosa che deve far piacere è che la società gli ha rinnovato un contratto, perché crede in questo ragazzo. Matera? Sì, la destinazione è Matera. Mister, però senza Dicione non ci sono, allora chiaramente la società deve anche muoversi nella logica dei 18 over, quello è un dato ineludibile, non si può sforare, e se non piazzi qualcuno sei costretto a tenerlo fuori lista, che è un peccato soprattutto per il giocatore, però mi chiedo, senza Dicione non ci sono rifinitori in organico, abbiamo tanti attaccanti esterni ma non c'è la controfigura di Tremolata. Sì, però Tremolata per noi deve essere, per noi Tremolata è un lusso, è un lusso perché è il giocatore che ha più qualità della mia squadra, ed è un giocatore che nel bene e nel male è sempre partecipe, domenica è stato un giocatore che tutti abbiamo visto l'errore finale, però Tremolata è il giocatore che ha dato la palla a caretta e l'ha messo in porta, Tremolata è quello che ha tirato all'ultimo minuto e il portiere ha fatto un miracolo, purtroppo, purtroppo, ci ricordiamo il gol sbagliato di Tremolata a tu per tu con il portiere e dopo 30 secondi subisci il gol della sconfitta e questa è una beffa, se fosse finita la partita 1-1 era un gol sbagliato come se ne sbagliano tanti, ecco è questo che ha dato all'occhio, ma non possiamo contestare o mettere in discussione un giocatore importante come Tremolata nel mio contesto di squadra, perché è un giocatore fondamentale come ne sono tanti, ma lui è il rifinitore e Tiscione non era un rifinitore nel mio gioco, Tiscione è stato sempre un giocatore estroso, è stato sempre un giocatore da 15-20 minuti che quando è entrato con il Parma ci ha cambiato la partita, è stato un giocatore che all'inizio quando stava in condizione migliore rispetto agli altri, ha fatto le prime 3-4 partite bene, poi ha avuto un po' di difficoltà, io sono sicuro che è un giocatore valido, però la Serie B in questo momento ci fa capire che dobbiamo creare una squadra ancora più forte e quindi siamo andati a toccare delle situazioni dove non possiamo pensare che abbiamo 42 partite da allora possiamo avere doppio in tutte le parti, abbiamo Tremolata che è un 3-4 quando c'è Tremolata si cambierà modulo di gioco se possiamo aggiornare un po' la situazione su Montalto e su... Montalto buona notizia, mi ha chiamato adesso il medico, verrà con il ritiro, noi avevamo paura che dova qui a fare delle cure, quindi bene, e invece con Regione stiamo un attimo aspettando un altro giorno, la Regione ha preso questa botta in contrasto con Pio Vaccari in allenamento e purtroppo è uscito fuori questo ematoma che non si riesce ad assorbire, tutto lì, un dolore muscolare che è una cosa che io speravo già da Empoli di avercelo e qui si rischia addirittura neanche di averlo per lunedì sera, ma io sono molto fiducioso. A parte di Regione sono Bleve e Out? Sì, solamente Bleve e Out e gli altri sono tutti quanti a disposizione, tranne Marino che è in via di partenza. Domenica, mister, la rifiutura la fate a Pomezia? Domenica questo qui io penso faremo la rifiuta e poi partiremo per il ritiro, ci alleneremo giù a Pomezia, partiremo e andiamo in ritiro a Caraombra. Questa è stata una settimana un po' particolare se vogliamo, nel senso che forse per la prima volta c'è stata una situazione magari di malcontento, non di contestazione ma di malcontento, diciamo gruppi anche sui social, gruppi che inneggiano a povesci, gruppi che contestano la società perché non ha dato sicuramente quelle operazioni di mercato che magari potevano essere utili alla società, alla squadra, ci sono ancora dieci giorni, però voglio dire dieci forse un po' meno, però ancora c'è tempo, c'erano margini. Ecco, da questa situazione, in considerazione di tutte queste situazioni, si sente sotto pressione lei? Ma io parte dalla parte della mia società, io non sono mai stato, mai stato in discussione. E' normale, solo una cosa, visto che questa è una domanda particolare che coinvolge anche la società, se non vi dispiace la mettiamo un attimo da parte, poi dopo il mister risponde, però volevo coinvolgere anche il presidente che è a Milano, così dà una risposta anche lui, perché ci sono due ambiti nella stessa domanda, mister, la società, quello che è accaduto, eccetera eccetera. Quindi, solo tempo eventualmente di contattarlo, se può, altrimenti risponde solo. Io se vuoi posso rispondere. Dopo dopo dopo, insieme al presidente. Quindi dobbiamo aspettare il presidente, vabbè. Ci aspettiamo un attimo così rispondere insieme. Io, collegandomi in parte al discorso di Ivano, vorrei fare un'altra. Lo dico prima, probabilmente non è il massimo, non è proprio gradevole come domanda, però è un quesito che sta emergendo, che è chiaro, io la faccio diretta. Il suo rapporto con Mariani? Il mio rapporto con Mariani? La Mariani è una persona che io ho conosciuto da anni, c'è stato il discorso di fondi, quindi si porta sempre questo discorso a Mariani. Mariani alla primavera, quando Bandicchi mi ha detto prendi la responsabilità, io ho fatto scusa. C'hai Mariani che è stato un tuo collaboratore, ha svolto bene cosa? Di lì si vuole fare la primavera. E quindi è stato tutto qui. Poi è normale che la gente ci ricama. La gente ci ricama perché Poghesci è stato mandato via, è stato mandato via da fondi e poi è venuto Mariani, poi Mariani è andato via e è ritornato Poghesci. Adesso Mariani sta qui, sembra che la società l'ha messa apposta. La società non l'ha messa apposta. Sono stato io che ho parlato con il presidente e con il padrone e ho detto scusa dobbiamo fare la primavera siccome è stato un uomo unico sano. Poi è normale che anche io leggo sui social ogni tanto e poi vado a vedere è gente di fondi che mette zizzagna. Noi non possiamo stare a Mariani, a Poghesci. Qui bisogna pensare alla Ternana che è la cosa importante. È normale che la società prenda le proprie decisioni. Io su questo aspetto, nel presidente, nel padrone, abbiamo avuto discussioni come tutte le famiglie si fa, quando si perde una partita si parla. Però non mi è mai stato detto Arda Poghesci questa partita è l'ultima. Io non sono mai stato messo in discussione né da Bannecchi né da Ranucci. Poi, guardate le ultime dieci posizioni, mi sembra che solamente io e l'allenatore del Foggia non siamo stati esonerati perché tutte le squadre hanno cambiato. Addirittura ha cambiato Lempoli che era terzo in classifica e oggi è secondo ma ha sempre due squadre in avanti. Quindi questo è quello. E questo è... Anche il Brescia. Allora, c'ho il presidente Ranucci in collegamento da Milano perché ci sono tutte le riunioni della Lega che ovviamente conoscete. E' uscito un attimo dall'assemblea. Presidente, in viva voce, ci sente? Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ho pensato di coinvolgerla proprio perché c'è stata questa domanda sulla situazione della società, i tifosi, qualche momento di contestazione ma insomma si è discusso, di malcontento. Esatto, il termine giusto è malcontento. Allora, volevo coinvolgerla su questo se voleva dire qualcosa. Allora, intanto mi farebbe piacere sapere chi ha fatto la domanda. Il Vano Mari. Per precisare, non sono ancora a Milano, sto arrivando, sono in macchina perché la commissione marketing della quale faccio parte è stata convocata per le 16. Quindi l'hanno spostata, sono in macchina e sto andando. Il Vano Mari ha fatto la domanda perché le dà una persona che gode della mia stima. Quindi siamo usciti un attimo dai commenti del rettangolo di gioco. Per quanto riguarda il malcontento, credo che sia lecito perché la posizione in classifica la vedono tutti. E quindi è normale che i tifosi non siano felici. Ma prima di tutti non ne siamo felici neanche noi. Per quanto riguarda i malcontenti, sentivo la risposta del mister, per quanto riguarda i malcontenti che si leggono sui social, io sono un grande sostenitore del pensiero di Umberto Eco. Quindi credo che questa sia la risposta più giusta a quanto viene scritto. Sui rapporti di altri allenatori che fanno parte della società o di quanto è stato detto il braccio armato nei confronti di chi? Io credo che proprio chi ha fatto la domanda o tutti i giornalisti presenti possano riconoscere non solo nei pezzi di carta, perché conciliatore lo sono professionista depositato al Ministero di Grazia e Giustizia, ma credo che faccia parte del mio carattere. Quindi già in altre circostanze io non solo non mi sono schierato contro qualcuno, ma credo di aver dimostrato, di aver speso parole importanti, anche quando si sono fatti commenti nei confronti di personaggi di Palazzo. Per carità, commenti anche condivisibili. Quindi io dico che non c'è nessuna azione come hanno scritto, come ha scritto qualcuno che si sta organizzando nei confronti di… Noi siamo convinti che la squadra gioca bene, siamo convinti che l'allenatore la sta facendo giocare bene, ci dispiace della posizione in classifica, la contestazione o il malcontento che c'è deve esserci, perché quasi ultimi in classifica non possiamo certo gioire o farci gli applausi. è però vero che le vittorie che dobbiamo fare ovviamente adesso devono arrivare e stiamo lavorando per questo. Per quanto riguarda il mercato, oggi è da stamattina alle 8 che abbiamo iniziato una trattativa per portare l'ultimo tassello che il reparto tecnico, quindi allenatore e direttore sportivo hanno richiesto, come credo che l'allenatore abbia già riconfermato. Quindi questo è quanto io mi sento di poter dire. Va bene, è tutto Presidente? Spero… Chiedono chi è il giocatore, ma credo che la risposta sia scontata. Il giocatore è un centrocappista che, ripeto, il reparto tecnico, quindi l'allenatore ha richiesto. È un giocatore che ha sempre solo fatto la Serie D. Non è facile prenderlo perché su questo giocatore ci stanno altre tre squadre. sui giornali hanno scritto una, ma ce ne sono tre. Spero anche qui, come successo per Stadella, di poter far valere i miei buoni rapporti con alcune società e visto che questo giocatore milita in una società con quale io ho buoni rapporti e sono anche nella stessa commissione marketing oggi pomeriggio, quindi speriamo di poterlo portare a casa. Va bene, grazie. Grazie Presidente. Ovviamente forza a fare, forza all'allenatore, forza alla società che in questo momento deve essere più compatta che mai. Grazie Presidente, buon viaggio. Grazie, arrivederci. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Voi sapete benissimo che il mercato poi magari può offrire delle sorprese e quindi noi siamo vigili perché è normale, vi faccio un esempio, Montalto fa la partita, oggi non c'è, quindi il mercato fino al 31 non siamo sempre sul pezzo per vedere se esce fuori qualcosa di importante. La società ci ha messo a disposizione, noi quando abbiamo chiesto quattro giocatori che servirono per rafforzare, ed ecco, l'ultimo su quello che noi ci siamo detti 20 giorni fa. Però le cose possono cambiare perché magari ci può essere qualche malumore di qualche giocatore che si vede giocare poco e vuole andare via e noi a quel punto si subentra per prendere un ulteriore giocatore. Non è che se va via un giocatore noi rimaniamo con una lista che possiamo ancora mettere degli over. Se dovesse arrivare Signori, perché è una trattativa in itiner, quindi potrebbe arrivare a buona conclusione, a positiva conclusione, oppure no. Se dovesse arrivare, è un analizzare in grado di fare in una media da tre centrodestra e centrosinistra, quindi le offro un ampio pentaglio di opzioni. Andiamo a rafforzare quel reparto che diciamo siamo corti, che domenica ha giocato Bordin, un ragazzino benissimo, grande partita, però Defendi ha giocato con dolore muscolare e quindi siamo sempre un po', è un reparto, quando voglio giocare con tre centrocampisti siamo pochi, siamo 4-5 centrocampisti, dovremmo essere 6, è nato via Bombaggi, ci sono altre trattative su altri giocatori che potrebbero partire in questi giorni, quindi noi dobbiamo stare allerta perché non ci dobbiamo far trovare impreparati perché io penso sempre che questo campionato si decida l'ultima giornata per la Ternana, e quindi l'ultima giornata può essere anche eventuali spareggi, può essere tante cose. Noi siamo convinti che questa squadra prima o poi debba esplodere, debba uscire fuori, speriamo che lo facciamo al più presto perché oggi abbiamo sempre meno possibilità proprio perché le partite si accorciano, non c'è più rimedio, non c'è più niente, ecco perché oggi prendere un gol al novantasesimo e perdere due punti non valgono più i due punti del giorno d'andata ma diventano quattro i punti proprio per il fattore. Non si può rispondere a quella domanda di prima? Sì, ma io non ho, vi ripeto, io con la società, ragazzi mi hanno preso un Serie D, era il 2014, che vi devo dire, gli attestati di Bandecchi, di Ranucci, Ranucci in conferenza stampa qui all'inizio della preparazione ha detto Pokeshi garantisco io, io le ricordo queste cose, ragazzi ma è pure normale che magari si possa parlare, no? Faccio un esempio, tante volte al bar un tifoso, eh mister Pokeshi come va? Eh beh, dobbiamo vincere, magari tante persone interpretano, ma il mondo del calcio non lo sappiamo, noi siamo condannati ai nostri risultati, è normale che se non vengono i risultati si deve fare qualche cosa, ma non è perché è la società che ce l'ha contro Pokeshi, l'ha dimostrato, vi ripeto, nelle ultime dieci squadre sono stati cambiati otto allenatori e due società hanno fatto il triplo esonero, cioè hanno esonerato l'allenatore, hanno ripreso un altro e hanno richiamato lo stesso giocatore e lo stesso allenatore. Quindi stiamo parlando di... io potevo dare ragione a tanta gente se ero messo in discussione, però se Pokeshi fa il mercato, se Pokeshi con evangelisti facciamo delle strategie per prendere dei giocatori al posto di altri giocatori, io credo perché la società abbia... sennò la società dirà fermi, andiamo avanti così, hai garantito per questa squadra rosa, io mi ricordo anche, ho detto questa rosa all'inizio, era una rosa che si poteva fare benissimo i playoff, però se io vado a vedere anche le prestazioni, dalle prestazioni questa squadra poteva stare da playoff, nei risultati siamo da retrocessione. Ho una curiosità che riguarda il centrocampo, qualora dovesse arrivare signori, lui, Paolucci, Bordin, prima ancora Bombaglio, morfologicamente ci sono alti, l'altezza è quella, l'unico che è leggermente più alto è il varone, come mai, compreso con Defendi, insomma l'alzatura è quella, come mai avete deciso di puntare comunque su un giocatore Noi abbiamo deciso di giocare con dei giocatori importanti, io quando prendo un giocatore non guardo mai l'altezza, l'altezza io la guardo da profano così, l'unica cosa è l'altezza, e il portiere, quanto è alto? L'unica cosa, è il gioco dei più forti al mondo, sono arti 1,60, quindi a centrocampo, ne dico uno, Iniesta e Pizzarro, non parliamo di formazione a secondo dell'altezza, il calcio è determinazione, e questo è quello che io voglio dai miei ragazzi. Varone, va via anche lui? Varone è un giocatore per il momento che sta con noi, ha svariate richieste e si valuterà, ma questo è... La società ha delle indicazioni, poi ci sono anche le varianti, che bisogna vedere quello che accadrà, quello che accade, può darsi che c'è un altro giocatore adesso che magari ha una richiesta importante e può andare via, e noi dobbiamo stare, però i pezzi migliori noi diciamo che li abbiamo tolti dal mercato, perché sono giocatori che hanno sposato il nostro progetto e dobbiamo uscirne fuori tutti quanti, perché l'importante oggi non è chi è l'allenatore delle ferre e entra qui a fine campionata, l'importante è solo l'obiettivo e l'obiettivo è che noi dobbiamo uscire al più presto da questa situazione. C'è una cosa che mi sfugge, se dovesse arrivare i signori avremmo sei centrocampisti, che per giocare spesso o comunque quando lei lo dirà un frutto uno a tre è il numero giusto, se poi dovesse partire Varone dovrebbe arrivare un altro centrocampista, se no rimarremo in cinque. No, perché centrocampista si potrebbe adattare qualche giocatore che gioca in esterno, non è questo il problema, se noi andremo a valutare su altri reparti che magari potremmo ancora rafforzarlo, perché è normale ragazzi, noi siamo una squadra che tanti dicono la ternana è cambiata, non è cambiata la ternana, è cambiato l'aspetto di come si va a giocare adesso le partite. Adesso le prime giornate eravamo una sorpresa per tutti, ci hanno studiato, ci guardano, ci osservano e quindi è normale quello che sembra, ma prima eravamo più tutti in attacco e tutti parlavano perché non ci copriamo, ora ci copriamo perché non andiamo in attacco. Il calcio ha bisogno di equilibrio, la ternana gli equilibri ce l'ha, perché non è una squadra, vi ripeto, io sarei stato preoccupato se uscivo da Empoli 4-0 per l'Empoli, allora mi sarei guardato allo specchio e mi ha detto c'è qualche problema e siccome ho garantito io per questa squadra il problema sono io. Io finché vedo la mia squadra che lotta, gioca e mette in difficoltà gli avversari, ma quello che a me mi fa rabbia è vedere a fine partita l'esultanza delle squadre, è una squadra seconda in classifica, io ci sono stato secondo in classifica. Quando battevo una squadra terz'ultima in classifica non esultavo. Guardate l'esultanza dell'Empoli, sia al gol che al fischio finale. Questo mi fa capire che noi, se siamo tutti compatti e se siamo tutti uniti e se ritroviamo anche le piccole stupidaggine magari del tifoso che contesta ma che giustamente ci viene a dare uno sprono, perché non è che ci contesta perché vuole il male della ternana, ci contesta perché vuole più concentrazione e più attenzione. Però io sono fiducioso, sono molto fiducioso e sono molto convinto di questa squadra e di questi giocatori, perché non può sempre andare in un verso. Quando c'è una situazione abbiamo sempre pagato noi in queste partite. Ti tiene completo il reparto difensivo? Guarda, il reparto difensivo con la regione noi abbiamo fatto, io vi faccio un esempio, la partita di domenica, di sabato che abbiamo fatto a Tempo. Noi abbiamo incontrato l'attacco più forte del campionato, perché parlano i numeri, ha fatto più gol di tutti quanti questa squadra. Donnarum ha tirato una volta in porta e ha tirato una volta su una parata del nostro portiere e Caputo è stato neutralizzato dai tre centrali, perché abbiamo giocato tre centrali, anche questa storia, la difesa deve giocare a quattro. Quando noi giochiamo con tre centrali, perché ci sono due punte centrali e un tre quarti, e diventa difficile marcarli perché con i due esterni che sono larghi e non stringono perché sono giocatori di spinta, noi avremo difficoltà, a meno che metto non più due centrali e due che spingono. Allora metto quattro difensori, allora lì vi do ragione. Mettiamo quattro difensori che marcano 60 metri di campo. Però quando io ho tre centrali di attacco, due punte e un tre quarti, io sono obbligato a rafforzare il reparto centrale. Che hanno fatto benissimo, Gasparetto, Valiant e Vitiello, non hanno fatto tirare. È vero che hanno avuto palleggio a centrocampo e abbiamo preso il gol, ma noi abbiamo preso un gol su una linea di centrocampo piatta, cioè un passaggio filtrante, ha tagliato fuori tre centrocampisti e si è trovata tu per tu. Esce Vitiello, tira in porta, i due tersini stringono, e Caputo e Donnarumma si erano allargati per cercare di avere la palla in profondità per prenderla. Ha tirato un porta, Plizzari ha fatto quello che poteva e è uscito con il gol. Però ecco, anche le strategie che noi andiamo a fare, due centrali, tre centrali, sono sempre anche con le squadre avversarie. Se giocano con una punta, è normale che chi gioca con una punta non mi metto con tre difensori centrali, ma gioco diversamente. Non parliamo di errori macroscopici, però l'impressione è che sul primo gol, forse, mi correggo se sbaglio, Gasparretta avrebbe potuto avere una lettura diversa, e sul secondo Bordinzi ha partito in aggressione su Sassagnetti con una frazione di secondo. Stiamo parlando di un gol da 35 metri, stiamo parlando di un'azione con una velocità dell'inserimento del centrocampista, ma se noi vogliamo vedere proprio l'errore, l'errore è che parte il difensore centrale che ho palla al piede e nessuno lo contrasta. Lì doveva esserci una pressione o la prima punta che marcava l'altro, ma doveva scalare tremolata, anche era rimasto su Castagnetti perché lui aveva gli ordini di marcare. Ma dal momento che Castagnetti stava qui e passa, lui doveva andare in contrasto. E poi la linea di centrocampo che ha lavorato male. Su tutti questi errori la linea di difesa doveva recuperare questo errore. E non è stata brava. Che doveva fare Gasparretta? Gasparretta doveva fare solo una cosa. Quello che ci dicono e che ci dicevano allora gli allenatori. Quando si tira in porta dobbiamo scappare ad aiutare il portiere che gli può scappare. Doveva fare quella corsa. Ma Gaspar, se voi lo vedete bene, quando va a puntare Vidiello il giocatore, lui stringe, va a chiudere. Perché è normale che fa quelle... Perché lui in quel momento non è più pericoloso l'uomo largo, laterale, ma è l'uomo centrale. Infatti l'uomo centrale ha tirato. Se Prizzeri avesse parato, noi avremmo detto, bene, Gasparretto gli ha messo pressione a tuo tirare. Se non ci andava Gasparretto va in porta e fa cosa senza portiere. Quindi gli errori sono di... Io parlo sempre di errori completi. Quando si prende un gol si sbaglia tutto, compreso l'allenatore. Ho un'altra curiosità, mi pare, di aver capito che alla vigilia la comprensa stampa per partita non ci sarà. Io penso che parlare di una partita come la partita di lunedì, che è la partita nostra importante della vita, è la partita che noi dobbiamo assolutamente vincere. perché adesso con il secco di me passa. Perché anche mentalmente, mentalmente, noi dobbiamo dare un segnale forte, sia come squadra, sia come staffe tecnico, sia soprattutto ai nostri tifosi, ma soprattutto anche alla nostra società dove noi ci siamo, siamo noi i garanti di giocatori che abbiamo presi. La società ci ha messo a disposizione un mercato. Noi abbiamo voluto determinati giocatori e questi giocatori stanno in campo per dimostrare il valore di questo campionato di Serie B. Quindi ecco perché voglio assolutamente che questa squadra sia concentrata su questa partita che per me ritengo l'inizio di tre scontri diretti importanti dove la Ternana deve riuscire sempre a fare punti. Queste sono le partite nostre. La partita di Empoli, se prendi la goleata c'è qualcosa che non va fermo. Se prendi quattro gol, cinque gol, da una squadra come ci potrebbe anche stare perché una squadra che è seconda è una squadra del terzo in classifica. Però poi i valori in campo li abbiamo visti. I valori in campo sono che noi all'ottantesimo abbiamo sbagliato un gol, loro all'ottantesimo e 30 secondi ce l'hanno fatto da un gol con difesa schierata, con due centrocampisti che escono in ritardo, è vero, perché hanno fatto fare tre passi e calciare di si doveva accorciare, ma siamo anche ai 40 metri. Quindi non lo ritengo un errore, lo ritengo anche un colpo degli genio che a volte uno che tira 35 metri uno va a pensare... Infatti stiamo a cavillare sulle nezze, non è che parliamo di errori macroslovici, è chiaro. Se noi parliamo di quello degli errori sono stati ben altri quelli che abbiamo visto che abbiamo affrontato. Io parlo di una difesa che è stata più accorta, parlo di una squadra che ha giocato come doveva giocare con le ripartenze, perché noi l'abbiamo studiata così per ripartire sui loro tersini che sfingevano. L'Empoli è la squadra che fa più cross dalle fasce, con noi ha fatto due cross da tre quarti, quindi gli abbiamo bloccato sia Garretta che Stadela, hanno fatto un lavoro oscuro bellissimo, eccezionale. Purtroppo se avessimo forse fatto quel gol noi e la partita fosse finito 2-1 per la Ternana, tutti esaltavamo questo modo di giocare della Ternana, abbiamo perso e quindi quando si perde si deve stare zitto e si deve lavorare. Per Albatoro vale il discorso di Varone oppure Albatoro rimane? Albatoro è un giocatore della Ternana, Albatoro è un giocatore che sta con noi, purtroppo anche lui ha dei problemi, sta facendo delle cure, però è normale che il mercato è aperto, viene una mega offerta, siamo al 31, da qui al 31 per me può cadere ancora tanto, perché magari c'è un giocatore che è scontento, c'è un altro giocatore che, non lo so, che il mercato ci offre e che magari la società dice no, lo vogliamo prendere e malgrado siamo anche di più, troviamo una soluzione. La società non si arrende, la società non è venuta qui per retrocedere, la società è venuta qui per far bene. Poi ci siamo accorti delle difficoltà e dobbiamo riparare a queste difficoltà, ma se oggi mancano 60 punti e noi ci dobbiamo stare a preoccupare quando già dall'inizio tutti ci davano per avere 4-5 punti, ne abbiamo 21, partiamo da questi 21 punti, partiamo da queste partite con la Salernitana, i tifosi, faccio un appello, è giusto che scrivate tutto quanto e che ci contestate per tutto quanto, però siete venuti in 400 ad Empoli ed è una cosa magnifica vedere 400 tifosi per una squadra come la Ternana che ripeto, che qualcuno magari che sta nelle ultime posizioni, nessuna tifoseria seguirebbe una squadra penultima in classifica, eppure credono, ecco, noi vogliamo sentire sempre, poi le contestazioni, siamo disposti a tutto, al confronto, ma anche agli insulti, perché è giusto che il tifoso si sfoca, perché il tifoso è il primo proprietario, è il primo proprietario della propria squadra, della loro città. Ok? Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.